Venerdì 9 settembre, buongiorno e ben ritrovati cari telespettatori di Fano TV sul canale 17 730 in diretta come sempre, la rassegna stampa, occhio ai giornali. Allora oggi è San Pietro Claverra, è un santo che è morto nel 1654, patrono universale delle missioni tra le popolazioni nere. Il sole sorto alle 6.39 tramonterà alle 19.32, il tempo per oggi cielo sereno poco nuvoloso, con precipitazioni durante le ore centrali della giornata, le temperature sono in lieve aumento, i venti di brezza tesa. Per domani, sabato 10, avremo ancora cielo sereno poco nuvoloso, durante le ore centrali rovesci sparsi nelle zone interne e anche sulla costa sanbenedettese. Per domenica cielo così così, 11 settembre avremo precipitazioni durante le ore centrali, sempre sui rilievi meridionali. Le temperature sono stazionarie, le minime e in lieve aumento le temperature massime. La situazione è in generale però miglioramento, con deboli fenomeni di instabilità pomeridiana solo sulle montagne del sud della regione Marche. Cominciamo a leggere i giornali. Allora, la pagina principale del resto del Carlino, la fotonotizia per il Conte, il titolare dell'albergo dell'hotel Vittoria, che protesta, protesta per i bagni chimici che, siccome c'è la fiera di San Nicola, a Pesero gli hanno piazzato praticamente davanti all'albergo. E lui protesta, in che modo? Incatenandosi. Il Conte è incatenato, questa è la fotonotizia. Bagni chimici della fiera di San Nicola davanti all'hotel Vittoria, la folcloristica protesta di Marcucci Pinoli. Dopo via Solferino tocca a Loreto, faremo una grande rotatoria. Sulla viabilità parla l'assessore Briglia, che annuncia l'ennesima sperimentazione. Poi duello, animalisti politici sui cani in gabbia oppure tenuti alla catena. Una legge che divide. Sotto morta per soffocamento resta il mistero. L'autopsia non scioglie i dubbi sulla tragedia del badante. Il procuratore però è cauto sul discorso dell'omicidio. La pagina di Fano invece di questa mattina interviene e pubblica il parere dei commercianti ascoltati dalla giornalista che ha realizzato il servizio sull'Ocean. Ocean che, come abbiamo già detto, aumenterà, raddoppierà praticamente e il fatto che diventi molto più grande di quello che è adesso turba i commercianti. Bisognava impedirlo, dicono loro, la categoria è in allarme, così il centro storico muore. E questa è una tiritera che più o meno sentiamo ogni qualvolta. C'è qualche possibilità che venga realizzato qualche centro commerciale. Ma mettiamoci l'animo in pace perché di piccoli e grandi centri ne sorgeranno ancora a Fano. E se non è a Fano sarà Marotta, se non è Marotta sarà Pesolo, la gente si muove. Quindi l'importante è mantenere vivo il centro storico, non preoccuparsi di quello che fanno gli altri. Se è una cosa bella uno ci torna e lo fa anche se di fianco c'ha qualunque cosa. Il PD rassicura opportunità per il territorio perché ci sono circa 20 milioni di investimento per il gruppo francese di Ocean con 25 nuove attività e dunque anche 200 addetti. Il che significa che ci sono nuovi posti di lavoro. Ma è molto critico Varotti, Amerigo Varotti che è il direttore provinciale della Confcommercio il quale parla di assurdità, di una cosa antistorica, insostenibile come l'ampliamento che è previsto. Una follia la definisce, un disastro per l'economia le cui ripercussioni saranno pesantissime per il lavoro e le piccole imprese. Terme di Carignano invece, quelle chiusi ormai da tanto tempo. Abbiamo fatto il possibile l'assessore Paolini dopo la richiesta risarcitoria di 20 milioni di euro da parte della proprietà Berloni che chiede 20 milioni dunque al comune di Fano. Il complesso finisce all'asta, nel mirino le lungaggini burocratiche, atti inviati alla provincia che però non è riuscita a coinvolgere i soggetti interessati. Aspettando l'interquartiere il comitato invece è già in allarme. Secondo i cittadini le nuove infrastrutture devasteranno territorio e socialità. Intanto proseguono le asfaltature su via Roma, poi toccherà alle piste ciclabili. L'aeroporto, il problema dell'aeroporto di Fano. Enac frena sulla pista. Prima c'è da gestire il nodo delle aree dal comune al demanio. Garantita l'operatività per tre settimane al massimo e poi ancora non si sa nulla. Cecchini della scuola di volo dice basta politica, serve un'accordata di imprese per rilanciare lo scalo fanese. Al via invece da ieri all'Ido di Fano il festival internazionale del brodetto e delle zuppe di pesce che fino a domenica delizierà i partecipanti con buon cibo, vino di qualità, i migliori chef internazionali, musica, spettacoli e anche tanti approfondimenti. Questa è un'altra pagina di Fano del resto del carino. Adesso andiamo su Urbino e provincia perché ogni tanto c'è qualche paese che sta al confine, in particolare con l'Emilia Romagna, che vuole staccarsi dalle Marche e andare con gli emiliani, con i romagnoli. Il sindaco di Urbino adesso, Maurizio Gambini, si è recato a Monte Copiolo, uno di quei comuni che è deciso a staccarsi, a fare il referendum per andare con l'Emilia Romagna. Si è incontrato Gambini con Alfonso Lattazzi e c'è questa prova di dialogo con i secessionisti. Sono due i comuni che vorrebbero andare con l'Emilia Romagna. Sotto invece, per quanto riguarda la sanità, il comitato pro ospedale a Taccaricci, Seri e Gambini, per il presidente Carlo Ruggeri di Fossombrone che è a capo del comitato pro ospedali. Solo cinque sindaci sono per il sistema policentrico, gli altri invece tacciono. La cronaca, sempre da Fossombrone, un uomo è stato trovato senza vita in casa. La scoperta è stata fatta ieri dai Vigili del Fuoco e dal personale del 118. Poi da Pesaro invece le polemiche sui salvataggi che hanno riguardato una persona, un anziano, che forse è stato colto da malore, però purtroppo non ce l'ha fatta. È annegato al Genica, la vittima aveva 79 anni ed era originaria di Sofia. Corpo recuperato alle 12.30, il dito è puntato adesso contro il taglio anticipato del servizio di salvataggio. Spaccia e ruina alla Sert di Fano, in casa un bazar della droga. La polizia ha arrestato un 47enne già noto, aveva cinque dosi, ma sono tutte per me. Lui si è difeso così. La pagina del Corriere Adriatico. Pesaro non deve imporsi, il Vescovo di Fano Trasarti chiede un altro sito per quanto riguarda l'ospedale. La diocesi entra nel dibattito a Chiaruccia, la clinica privata. A centropagina sfollati via dalle tende entro un mese, ultimatum di Errani. Entro anche nel cratere, le scuole riapriranno comunque giovedì prossimo, come nel resto della regione. Nel sito dell'ospedale, né a Pesaro né a Fano, il Vescovo Trasarti interviene nel dibattito attraverso l'ufficio diocesano del lavoro. Ospedale baricentrico, la chiesa locale invita l'integrazione dei servizi sanitari e sociali con un piano ampiamente partecipato. Ceriscioli e Chiaruccia accolga la clinica privata. Un incontro a quattro, il governatore Salva Sasso Corvaro e Cagli, pressing sul sindaco di Fano Seri per il via libera alla sede unica di Marche Nord da realizzare a Muraglia. I comitati marciano su Ancona, la protesta a tutela dei piccoli ospedali prevista per il 20 ottobre. Da Pesaro più consumi, ma troppo street food, commercianti e albergatori replicano al sindaco che ha esaltato il boom estivo di cibo e bevande. Gli operatori sono critici, gli aumenti sono dovuti a feste, eventi e sagre e così al territorio resta poco. Dubbi sulla moda del cibo di strada, va riscoperta la cultura dello stare a tavola. E questa è la pagina di Pesaro. Adesso andiamo su Fano, sconfitto un accordo di potere, complimenti alla giunta Seri. E sono i complimenti che arrivano dalla Conf Commercio sull'ex zuccherificio. E la Conf Commercio esulta per la sentenza contro la società Madonna Punte che è la proprietaria dell'area. Che vedete qua sotto? Un progetto di città-mercato minacciava il centro storico, nuovi strali invece partono contro l'ampliamento dell'Ocean. Sono smentiti tanti interessati profeti di sventura. Sinistra Unita rileva che così si chiude un ciclo politico che è quello chiaramente a cui fa riferimento Sinistra Unita della giunta a Guzzi che ha voluto questo progettato e fatto insomma quello che è stato fatto fino adesso con la società Madonna Punte. È fallita una certa idea di Fano, dicono quelli di Sinistra Unita. Poi questa moda di cui vi abbiamo parlato ieri anche nel nostro telegiornale di ragazzini che giocano con la vita. Io vorrei un attimo soffermarmi soprattutto per i genitori che ci stanno ascoltando, che magari hanno i figli che vanno di 15-16 anni, più o meno questa è l'età, che escono la sera. Ecco magari cercate di capire cosa fanno, cosa non fanno perché potrebbero essere quelli che giocano con la propria vita e magari voi state a casa a guardare la televisione senza minimamente preoccuparvi. Cosa fanno questi ragazzini? Nelle ore serali vicino all'aeroporto di Fano si mettono appostati dietro le siepi, dietro la vegetazione, poi all'improvviso quando vedono i fari di una macchina per gioco, per sfidare la sorte, per giocare, sbucano dal buio e si parano davanti alle auto. Ok? Avete capito? A 15-16 anni. Ci sono diversi testimoni, uno l'abbiamo intervistato ieri nel corso del telegiornale appunto dicendo e raccontando quello che gli era capitato, cioè di aver visto addirittura delle ragazzine, quindi femmine, che hanno fatto questo gioco. Un passatempo, dicono, che se va male finisce. Lanciano anche dei sassi in strada e sbirciano nelle vetture in sosta. E questa è la notizia che riporta il Corriere Adriatico sulla pagina di Fano. C'è una pista invece, attenzione, una pista per la rapina alla tabaccaia di Ponte Murello, la tabaccheria azzura. Ieri il resto del Carlino scriveva che era stato arrestato, dando anche dei particolari, era stato il vicino di casa, eccetera, eccetera. In realtà oggi il Corriere Adriatico scrive una notizia un po' diversa. Alcuni sospetti, ma nessun arresto per l'autore della rapina ai danni della tabaccheria a Ponte Murello. I carabinieri hanno eseguito una serie di perquisizioni che hanno interessato persone che abitano nelle vicinanze dell'esercizio commerciale. Siamo sulla Flaminia, proprio all'ingresso della città di Lucrezia. E stanno portando avanti delle indagini. Ma per capire chi fosse quell'uomo che non ha pronunciato, proferito parola, chiaramente per non farsi riconoscere, per ne accenti e quant'altro, e che è entrato nella tabaccheria a martedì pomeriggio, bisognerà ancora aspettare. Ci sono sospetti, ma ancora nessun tipo di arresto. Allora, andiamo adesso sulla Val Cesano. Pugno duro contro la prostituzione, controlli estesi di notte sulle strade. Il fenomeno che è in arrivo da sud, quindi da Senigallia, Cesano, giù di lì, le forze dell'ordine sono in campo, ci sono multe e anche verifiche fiscali. Perché attenzione, allora, che cosa succede? Succede che il sindaco Barbieri, il sindaco di Mondolfo, che quindi ha anche, ed è anche sindaco di Marotta, quindi in lungomare dove c'è questo problema, ha emesso questa ordinanza d'urgenza. Si tratta di un'ordinanza che ha breve tempo, perché dura, credo, un mese, se non ricordo male, e prevede, chiaramente, dei controlli. Ma soprattutto multe, multe agli automobilisti, che vanno dai 25 ai 500 euro, sia per le prostitute che per i clienti. Ma non solo, scatta anche l'agente di polizia che proceda ad accertare la violazione dei divieti, dovrà informare anche la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Entrate, per avviare gli opportuni accertamenti che si prefigurano reati fiscali. E questa è un'ordinanza che più o meno è stata fatta anche in altri comuni, con dei buoni risultati. L'unico problema è che un mese è certamente un po' pochino. Però intanto bisognerà provare questo mese, vedere gli effetti e poi discutere su tutto il resto. Mentre tornare indietro, cioè Marotta riportarla sotto il comune di Fano, per il responsabile della CNA di Fano e Marotta, Fausto Baldarelli, è deleterio. Dopo la sentenza infatti della Corte Costituzionale, insomma c'è che per tutta Marotta il riferimento non è più Fano, ma è certamente quella di Mondolfo. E quindi insomma anche la CNA, la Confederazione Nazionale degli Artigiani, scusate non la Corte Costituzionale, il Consiglio di Stato è deleterio. Ok, Baldarelli invece confonde, andiamo a Pergola, vedete questo è l'albergo Lex Motel Magi, dove sono ospitati 19 migranti. C'è la diatriba tra la maggioranza e l'opposizione a Pergola, perché il sindaco, dicono quelli dell'opposizione, confonde le norme. La minoranza consigliare interviene sull'agibilità di questo ex hotel che accoglie questi migranti. Una polemica dannosa all'immagine di Pergola, tanti aiutano il prossimo. Quindi insomma vorrebbe l'opposizione non far passare Pergola come una città dove non si accogliono le persone. Una città razzista. Non ce la faccio più e purtroppo quest'uomo si è suicidato. Siamo su Senigallia di un uomo, Maurizio Guazzarotti, che è stato trovato senza vita nel magazzino dell'azienda Alfa 5. Lo ha trovato un socio, ha lasciato un biglietto per chiedere scusa della sua scelta. Domani mattina ci sarà l'ultimo saluto. E poi la cronaca di Senigallia pubblica anche la notizia della morte di uno storico barbiere molto conosciuto in città. Oggi al portone ci saranno i funerali. Claudio Belardinelli, il barbiere da tutti conosciuto come Baffino. E' morto a 82 anni. Riesce a riprendere lo skate invece da Senigallia mentre il ladro però è fuggito. Dopo l'inseguimento il ragazzo fa perdere le sue tracce nel buio della spiaggia. E poi la pagina di Fano, creatività e coinvolgimento. Ecco il progetto del carnevale. I nuovi dirigenti hanno illustrato le loro idee alla Commissione Cultura. I carri di prima e seconda categoria rinnovati ogni anno. Input alle scuole e all'Ateneo di Urbino. E questa è la notizia più principale del Corriere Adriatico di Fano. Mentre dicevamo dell'annegamento che c'è stato sulla spiaggia al mare a Pesaro. Un anziano turista russo che è stato colto da Malore in tarda mattinata mentre stava nuotando. E' annegato davanti alla famiglia. Nulla è valso l'intervento dei bagnini e del 118 con la collaborazione di tutti i bagnanti. L'uomo era in vacanza con figli e nipoti. I medici hanno provato fino alla fine a rianimarlo ma non ci sono riusciti. Poi l'incidente di ieri mattina alla rotatoria di Colombarone. Guardate qua gli è andata bene. Probabilmente all'automobilista che è rimasto schiacciato dal pesante mezzo, dal tir. Schianto alla rotatoria, un camion che travolge un'auto. Pauroso scontro ieri mattina appunto a Colombarone. Il primo punto invece per il Fano che ieri nell'anticipo delle 16.30 ha pareggiato contro l'Albinoleff. Il risultato 1-1 ieri a Bergamo. Prezioso pareggio nell'anticipo appunto di Lega Pro. È tutto. Grazie per aver seguito Occhio ai giornali. Stasera ci vediamo alle 20.30 con Occhio alla Notizia. Arrivederci.